La partita di domenica sarà sicuramente una partita di quelle interessanti contro una squadra che ha avuto qualche difficoltà in fase iniziale del campionato a caso di qualche infortunio, anche molti infortuni in realtà. Adesso sta riprendendo un po' l'organico che ha a disposizione. Hanno inserito da un mese a questa parte anche un campione come Ivan Zaliz, lo conosciamo tutti, e quindi sarà una partita di quelle sicuramente divertenti da giocare. Domenica mi aspetto una partita tosta, una partita sicuramente che sarà un'opportunità per noi per prendere altri punti, e queste sono le occasioni che dobbiamo cogliere. Nulla è una partita che sicuramente non sarà facile, nonostante sappiamo che manchi Guantorena, ma questo non vuol dire nulla, perché alla fine in campo tutte le avversarie sono ostiche. Dopo Cisterna abbiamo fatto chiaramente la solita analisi, il punto della situazione, molto velocemente per capire quello che è andato e quello soprattutto che non è andato nella trasferta di Cisterna. Sappiamo che facciamo parte di una squadra che sta facendo un percorso e di conseguenza ci concentriamo molto sulle cose su cui dobbiamo migliorare, non su tutto, ma sulle cose principali sicuramente sì. E quindi siamo subito ripartiti con allenamenti mirati proprio alle cose che vogliamo che funzionino un po' meglio, ma insomma il clima è sicuramente ottimo. Ma sono ripresi bene, questa è una squadra che comunque è a carattere, che passa sopra questi momenti. Ovviamente ci sono partite che magari non vanno come ci si aspettava o le cose che facciamo insomma non vanno come ci si aspettava, però la squadra è ripartita, ha resettato e siamo andati in palestra di nuovo con uno spirito combattivo, quindi questa è una dimostrazione di una grande scala di carattere. Ma sicuramente come spesso accade in questa stagione soprattutto la battuta e di conseguenza la ricezione avranno un ruolo fondamentale. L'ho avuto a Cisterna, l'ho avuto in casa quando abbiamo giocato contro Perugia e contro Piacenza. La nostra battuta è una battuta che può sicuramente mettere in difficoltà, che può far male anche in certi momenti. Il problema chiaramente è che paghiamo dei prezzi ogni tanto molto importanti in termini di errore, stiamo lavorando anche su questo tipo di situazione, di gestione e di equilibrio, però sicuramente riuscire ad essere aggressivi nel modo giusto contro una squadra forte come Monza sarà molto importante. Beh, una grossa differenza è sicuramente giocare in casa, che per noi è un grande vantaggio. Negli anni soprattutto abbiamo dimostrato che in casa giochiamo bene, soprattutto battiamo bene e mettiamo in difficoltà l'avversario, quindi questo è sicuramente un vantaggio. Poi la partita sarà sicuramente tosta, si vedrà come si evolvono le cose, comunque sicuramente giocare in casa è un nostro punto a favore. Ma il morale è alto, è sempre alto, è una squadra splendida, è un gruppo splendido, ha tanta voglia di dilavorare, ha tanta voglia di dimostrare, non si abbatte anche nei momenti difficili, per esempio dopo le sconfitte, dopo la sconfitta di Cisterna, sicuramente c'è molto dispiacere, c'è stato molto dispiacere, ma c'è subito una gran voglia da parte di tutti, squadra e staff, di ripartire per crescere ancora un po'. Il morale è alto, perché insomma non è successo tutti gli anni di dimostrare questo. Ovviamente contro le dirette avversarie, sono sempre perite toste, difficili, che siamo riusciti a portare a casa, però dimostrare anche con le squadre più forti, magari più titolate, di riuscire a star lì, a mettere in difficoltà soprattutto, è una nota molto positiva, che non spesso accade. Noi negli anni siamo sempre sorpresi, abbiamo sempre vinto contro una big, però non è mai successo che in due partite consecutive contro due big, contro Perugia e contro Piacenza, siamo riusciti a sfiorare anche la vittoria, quindi questo è un gran segnale positivo da parte della squadra, vuol dire che riusciamo anche tecnicamente e magari mentalmente ci manca qualcosina per fare quel click e portarla a casa, che a volte si tratta anche solo di un pizzico di fortuna, però sicuramente, pallavolisticamente parlando, abbiamo le armi per mettere in difficoltà queste grandi squadre e questo insomma ci riempie ancora più di energia per dire mettiamoci ancora qualcosa in più per arrivare a fine settimana migliori. Sicuramente sarà fondamentale come sempre, il pubblico padovano che è sempre molto numeroso, molto caldo anche, si fa sentire, ci dà un supporto incredibile, l'abbiamo visto quando abbiamo giocato contro Perugia, abbiamo giocato contro Piacenza, contro Scorri molto forti, ma sembrava veramente di essere in sette in campo, non in sei, e quindi ci sarà bisogno di tutto l'apporto anche contro Monza. Vi aspetto tutti in palazzetto, sarà sicuramente una gara interessante, una grassa opportunità per noi, quindi spero di vedervi in palestra, attifare per noi e Forza Padua!